Benvenuti, bentrovati in nuova edizione del telegiornale di Esperia TV che apriamo con la cronaca accusati di avere spacciato droga anche fra l'altro in zone frequentate da minorenni. 5 persone arrestate dai carabinieri ad Isola Caporizzuto nel corso dell'operazione chiamata in codice Libertà. 4 di queste 5 persone sono finite in carcere, una ai domiciliari, a tutte contestati diversi episodi di spaccio di vari tipi di droga, quindi parliamo di cocaina, eroina e anche di marijuana, particolari nel servizio. I carabinieri hanno eseguito a Isola Caporizzuto un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di cinque soggetti, già noti alle forze dell'ordine, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. All'operazione, nome in codice Libertà, hanno collaborato i carabinieri della compagnia di Crotone ed il nucleo cinofili di Vibo Valencia, con il supporto di un elicottero. Nei confronti dei cinque soggetti, quattro finiti in carcere ed uno ai domiciliari, sono stati raccolti importanti indizi relativamente a numerosi episodi di spaccio di droga nei pressi di aree frequentate da minorenni. Il provvedimento ha recepito gli esiti investigativi di un'attività di polizia, avviata ad aprile del 2022 dopo l'arresto in fragranza per spaccio di sostanze stupefacenti di uno degli indagati, coordinata dalla Procura della Repubblica di Crotone ed eseguita mediante numerosi servizi di osservazione, pedinamento e controllo, nonché tramite l'esame delle immagini e dei frame catturati dalle telecamere. Sono stati documentati numerosi episodi di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, eroine e marijuana e sono state sequestrate anche diverse dosi, in particolare circa 150 grammi di cocaina purissima, già pronta per lo smercio. Agli indagati sono state contestate le aggravanti, poiché i reati sono stati commessi nei pressi delle palazzine popolari, ubicate vicine a una scuola e a un luogo di culto religioso e alla stessa caserma dei carabinieri. Stamattina il nostro Luigi Saporito ha raggiunto il colonnello del comando provinciale di Crotone dei Carabinieri, il colonnello Raffaele Giovinazzo, che ha parlato proprio di questa operazione. È un'importante operazione volta al contrasto del traffico di stupefacenti, che è stata coordinata dalla procura della Repubblica di Crotone, dottor Giuseppe Capoccia e dalla dottoressa Bellesi. Si tratta di un'attività che ha consentito di disarticolare un sodalizio che era dedito appunto alla cessione di sostanze stupefacenti, non soltanto cocaina ma anche sostanze come acisce e marijuana, che operava peraltro in prossimità di un istituto scolastico di Isolo Caporizzuto. Questo ha determinato particolare allarme sociale e chiaramente i militari della tenenza di Isolo Caporizzuto hanno avviato queste investigazioni che sono già cominciate dall'aprile del 2022. A seguito di attività tecnica, anche di esame delle immagini delle videosorveglianze e soprattutto attraverso il riscontro di una serie di cessioni, circa 200 sono state le cessioni che sono state documentate, è stato possibile nel giro di questi mesi di riscontrare l'assunto investigativo di partenza. Un'importante attività in una zona popolare della località di Isolo Caporizzuto che però chiaramente essendo svolta in prossimità di istituti scolastici chiaramente determinava una situazione di estremo pericolo soprattutto per i più giovani. Cinque arresti ma indagini che non si fermano? No, gli arresti sono cinque, sono stati quest'ate circa 300 grammi di sostanza stupefacente e sono stati segnalati anche all'autorità amministrativa 20 assuntori abituali. Il dato importante è che non soltanto gli assuntori provenivano da Crotone, della provincia di Crotone, ma anche dalla provincia di Catanzaro, come a testimoniare di una sorta di aria franca nella quale appunto questo tipo di attività criminosa veniva svolta. Adesso ce ne andiamo a Corigliano Rossano, è stato dato alle fiamme un autobus di proprietà dell'Istituto Agrario e potrebbe essere stato un atto a scopo vandalico e dimostrativo appunto quello che come vedete dalla telefoto è capitato all'esterno dell'Istituto di Contrada Frasso di Corigliano Rossano. Da qualche mese appunto è in fase di ristrutturazione, era il caso di dire a questo punto, questo vecchio autobus parcheggiato, che però come vedete, questa è la fine che ha fatto, insomma, in questa foto è evidente, insomma, ecco lo stato in cui versa in questo momento. Da subito comunque hanno escluso la matrice estorsiva, gli inquirenti insomma propendono più sull'ipotesi di vandalismo, ecco, sul posto oltre ai carabinieri e anche giri del fuoco che poi hanno spento le fiamme. Cambiamo decisamente argomento, ci occupiamo e non lo facevamo da tempo a dire il vero di politica, politica nazionale all'indomani della morte, della dipartita del cavaliere Silvio Berlusconi, poi un po' in giro per l'Italia, per l'Europa è il caso di dire, ci si interroga su che fine farà, ecco la parte un po' più moderata, liberal-democratica del centro-destra, di fatto insomma il partito di Berlusconi, Forza Italia che ancora oggi oscilla tra il 6 e il 10%, di questo ha parlato anche l'assessore all'agricoltura Gianluca Gallo che come sapete è anche il commissario provinciale, insomma il responsabile provinciale di Cosenza del partito di Berlusconi. Naturalmente il punto di riferimento è Forza Italia, il punto di riferimento rimane Silvio Berlusconi, un superuomo al quale il Paese e non solo, credo tutto il pianeta abbia tributato gli onori dovuti per essere stato uno statista che ha rappresentato nel modo migliore il nostro Paese, è stato per 9 anni Presidente del Consiglio, il più longevo Presidente del Consiglio della storia repubblicana, ha fondato un partito che a distanza di 30 anni ha ancora un partito vivo e vegeto e bisogna proseguire il nostro percorso ispirandoci naturalmente al miglior Silvio Berlusconi, ispirandoci naturalmente ad uno spazio politico che è quello dei moderati, liberali, cattolici, riformisti, che è uno spazio politico che finora Forza Italia ha rappresentato e mi auguro possa continuare a rappresentare. Noi tutti la scelta l'abbiamo fatta da decenni, abbiamo scelto il centrodestra, rimaniamo fedeli al centrodestra, io sono stato prima dell'Udc, finito l'Udc, sono stato di Forza Italia, orgogliosamente di Forza Italia, orgogliosamente per l'appartenenza ad un partito che ha fondato il centrodestra e che continua a rimanere in questo campo politico che in questo momento sta anche governando bene il paese e bene la regione e la provincia di Cosenza. La salute, la qualità della vita, la tutela della salute, sei trapianti renali di cui due da donatore vivente con tecnica robotica sono stati eseguiti al GOM, il grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria a cavallo dello scorso weekend. Risultato ottenuto grazie all'impegno profuso dalle due equip mediche delle unità operative di urologia e chirurgia generale. Questa attività complessa, coordinata dal direttore del centro trapianti Pellegrino Mancini, è stata possibile grazie anche alla generosità e all'altruismo dimostrati dai familiari di pazienti deceduti in terapia intensiva, sia all'ospedale annunziata di Cosenza che nello stesso ospedale di Reggio Calabria. Insomma, c'è buona sanità anche in Calabria. Lo so, ogni tanto, come dire, strabuzziamo gli occhi quando sentiamo questo tipo di informazioni. Non abbiamo finito oggi con le buone notizie perché un mese fa circa è stato eseguito un intervento di alta complessità chirurgica al Marrelli Hospital di Crotone, ma la particolarità è che non era la prima volta e questo tipo di attività complessa di chirurgia è da anni ormai che si fa, di fatto, al Marrelli che si ospita. La signora ha 66 anni e sveglia e risponde di non sentire dolore. Le avevano proposto un intervento laparoscopico con anestesia totale, intubazione, terapia intensiva post-operatoria e confezionamento di un'astomia. Per noi mortali è una sacchetta per la derivazione delle feci. E invece il chirurgo Francesco Caruso ha eseguito al Marrelli Hospital di Crotone l'intervento in laparoscopia ma in anestesia neuroassiale, cioè a paziente sveglia. Siamo riusciti, diciamo, a fare quello che in molti pensano sia possibile, cioè buona sanità ad alti livelli anche in Calabria. Sono cose che facciamo da anni, noi lo facciamo da ieri e diciamo che questo intervento, questa modalità di intervento è stata la scusa, tra virgolette, per dare risalto a un'attività che ormai portiamo avanti da anni. La paziente era affetta da mesi da febbre, dolori intensi, difficoltà ad evacuare, perdita di feci e gas dalle urine, causate da una malattia complicata del colon, con infiltrazione dell'utero, ovaio di sinistra, uretere di sinistra e fistola retto vescicale. Dopo vari consulti ha accettato il suggerimento del chirurgo calabrese e al controllo, dopo un mese dall'intervento, è tutto nella norma. Sta benissimo, è contentissima, è contentissima di essersi operata qui in Calabria, è contentissima del fatto che l'intervento sia andato bene, ma soprattutto che non ha dovuto fare quel viaggio della speranza che non è solo andare, operarsi e tornare, ma che comporta tutto il carrozzone dei parenti, trovare sistemazioni, trovare alloggi, continuare a fare i controlli fuori, può fare tutto quello che avrebbe dovuto fare fuori, qui in Calabria, tranquillamente. L'associazione delle due tecniche, quella chirurgica e quella anestesiologica, riduce al minimo il dolore post-operatorio e minimizza il ricorso alla terapia intensiva post-operatoria perché la paziente non viene intubata. Al Marelli Hospital è un intervento che si segue oramai da anni, anche per trattare altre patologie come ernie e colecisti. Francesco Caruso, Camillo Gerosa e l'anestesista Fernando Chiara Valluti sono riusciti a salvare utero, ovaio di sinistra e duretere infiltrati dal processo patologico. Hanno ricostruito la vescica perforata dalla malattia tutto in laparoscopia e con la paziente sveglia, senza necessità della sacchetta per le feci e terapia intensiva post-operatoria. La signora è stata dimessa cinque giorni dopo, a dimostrazione che puoi anche vivere a Milano, ma se vuoi puoi curarti a Crotone in Calabria. Operare una paziente in laparoscopia da sveglia ancora in molti centri è una cosa che ti guardano con gli occhi sgranati. Farlo in Calabria a Crotone è una cosa che diciamo fa ancora più rumore. Complimenti dunque ai medici e a tutta l'equipe del Marrelli Hospital. Si è spento invece al termine di una lunga malattia, aveva 75 anni, Giuseppe Pezzimenti, medico e politico, riconfermato sindaco di Gerace nel 2021. Pezzimenti era stato eletto consigliere regionale anche negli anni 90. L'Associazione dei Comuni dell'area agricanica si è stretta al dolore della famiglia per questa perdita. Un professionista con la passione per la politica, già consigliere regionale, più volte sindaco di Gerace. L'Associazione lo ricorderà per gli ottimi rapporti istituzionali con tutti i colleghi dell'Associazione. I funerali si terranno martedì alle ore 15.30. Una vera e propria pioggia di finanziamenti per le imprese e per progetti di rigenerazione culturale. Andiamo a Morano, Morano Calabro. Morano Calabro, giudicatario di risorse del PNRR per un importo di 1.600.000 euro legato al progetto Riabitare Morano per il sostegno delle iniziative imprenditoriali da realizzare nei borghi assegnatari di risorse per l'attuazione dei progetti locali di rigenerazione culturale e sociale finanziato dall'Unione Europea. Sicuramente una grande occasione per uno dei borghi più belli d'Italia. Siamo contenti che abbiamo intercettato delle risorse ma non solo per il semplice fatto di averle intercettate ma perché si sposano bene con il nostro programma amministrativo. Avevamo detto di non fare un'opera pubblica tanto per dire di aver fatto un'opera pubblica. Quella della rigenerazione urbana invece è un'opera pubblica sociale ed economica. Ecco perché sono molto soddisfatto che riusciremo a recuperare l'aria di stando del castello, fare un'info poi turistica al castello, far sì che recuperiamo il complesso di San Bernardino completamente, dare l'opportunità a tanti giovani di poter rimanere in questa comunità perché oltre a 1.600.000 di opere pubbliche abbiamo anche una capacità di poter intercettare risorse necessarie a far sì che i giovani possano fare impresa. Il MIC mette a disposizione delle imprese che si insedieranno e vieranno attività nel territorio di Morano quasi 700.000 euro. Per permettere la nascita e la costituzione di nuove medie piccole imprese. Questo permetterà ai nostri giovani soprattutto di potersi creare un futuro nel nostro borgo, di non avere come unica alternativa l'abbandonare questo meraviglioso paese ma di poter costruire impresa qua, di poter costruire la propria famiglia nel borgo nel quale sono contenute le proprie radici. Sono circa 700.000 euro che sono collaterali a un altro finanziamento PNRR di 1.600.000 dal titolo di Abitale Morano nel quale cerchiamo di riprendere alcuni edifici storici, non solo però ci concentriamo anche su aspetti culturali, ambientali, di scambio interculturale tra Morano e le comunità di moranesi che vivono ormai da troppo tempo all'estero. Quindi c'è un forte attaccamento alle nostre radici che cerchiamo di rivalutare in questo borgo. Adesso a Isola Caporizzuto nei giorni scorsi in occasione della giornata mondiale del rifugiato, ovviamente quella del 2023, c'è stato anche un convegno a più voci. Vediamo. Un convegno a più voci nella sala consigliare del comune di Isola Caporizzuto in occasione della ricorrenza della giornata mondiale del rifugiato. Momento di confronto organizzato dalla Prociv Arci per illustrare i progetti SAI esistenti sul territorio. La Prociv Arci ormai da altri 20 anni si occupa di accoglienza e immigrazione. Noi siamo nei progetti SAI, qui sul comune di Isola abbiamo un progetto che riguarda donne e bambine, ci occupiamo proprio, grazie a nostri professionisti, all'accoglienza di questi migranti e dare a loro comunque una vita, un'autonomia, una vita che era stata interrotta, una vita dignitosa. Tema conduttore, presenti diversi rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni, con il valido contributo della vocatura che affianca e supporta il sociale, agire l'accoglienza. E poi una riflessione su migranti e immigrazioni a margine della presentazione del libro Mediterranea, scritto a quattro mani dal giornalista greco Dimitri Deleulanes e dal sociologo Leonardo Palmisano. Ma è corretto dire che è scomparso completamente dall'agenda europea, dall'agenda politica europea? È correttissimo. Al contrario invece le autocrazie mediterranee come la Turchia, come l'Egitto, come la Siria, in qualche misura anche gli ultimi comportamenti di Israele, la Libia, l'Algeria, eccetera, hanno compreso che il Mediterraneo è centrale per la geopolitica mondiale. Parte di questo conflitto russo-ucraino si sta celebrando nel Mediterraneo e sta, come dire, consegnando l'egemonia geopolitica del Mediterraneo alla Turchia. Il SAI, sistema accoglienza e integrazione, composto da una rete eterogenea di enti locali e di enti di tutela, che con competenze e professionalità porta avanti un modello di accoglienza. Oggi si parla molto di agire per l'accoglienza. Sì, è anche il tema che ci è stato dato dall'ONHCR, l'Alto Commissariato per i Rifugiati. Agire per l'accoglienza dove vede in prima linea la persona e quindi tutti coloro che sono impegnati nell'immigrazione, ma anche la persona accolta. Noi lo chiamiamo il rifugiato, la persona che viene a rifugiarsi qui nel nostro territorio in cerca di pace, in cerca di sicurezza. Nel corso dell'iniziativa alcune interessanti testimonianze di chi è stato accolto proprio nel nostro territorio. Sono arrivato in Italia nel 2015, poi sono entrato nel centro di Occlienza a Isola di Caporisuto. Poi nel frattempo sono trasferito a Sant'Anna, nel centro di Occlienza, si chiama Sprar, Prociva a Isola di Caporisuto. Sono studiato in lingua italiana, ho diventato un mediatore, ho iniziato a lavorare con Prociva a Isola di Caporisuto. E poi nel frattempo sono iniziato a lavorare con un studio legale. È una storia di accoglienza e anche di successo la tua? Tutti non hanno le possibilità di entrare in un centro di Occlienza come sistema SAI, perché ci sono pochi, arrivano tanti, allora alcuni trasferiranno in un'altra parte, alcuni lasciano i centri. Quando entrano in Italia non capiscono la cultura, non capiscono la lingua, allora queste sono le difficoltà iniziali. Adesso ci occupiamo di paleontologia e lo facciamo andando in Basilicata a Rotonda. L'Elefas Anticus Italicus risalente al Pleistocene Medio Superiore, uno se non il più importante ritrovamento a livello nazionale, custodito nel Mugepa di Rotonda, i cui ritrovamenti risalgono al 1982 nella località Calorie, è stato eletto come fossile rappresentativo della Basilicata dalla Società Italiana di Paleontologia, che in questi giorni in Puglia ha concluso le giornate Paleo Days, giunte alla ventitresima edizione, dove hanno preso parte oltre 100 paleontologi, prevenienti da tutta Italia e dall'estero. Questo importante riconoscimento per il Museo di Rotonda fa parte dell'iniziativa Fossili Regionali della SPI, Società Paleontologica Italiana, che punta alla promozione capillare del valore del patrimonio paleontologico nazionale e ha una maggiore consapevolezza sull'argomento da parte del pubblico generale. Un riconoscimento che premia il lavoro svolto in questi anni dall'amministrazione comunale di Rotonda, guidata dal sindaco Rocco Bruno e dall'assessore al turismo e marketing Donatella Francese, che insieme al direttore scientifico Fabrizio Mollo del Mugepa, non si è risparmiata in incontri, laboratori, formazione, proprio presso il museo, dove, lo ricordiamo, al suo interno è possibile ammirare tra i reperti fossili la mandibola pressoché completa di un Ippopotamus Anticus, rivenuta nell'identico sito dell'Elephas e verosimilmente vissuto in epoche ancora più remote, oltre alle tante altre testimonianze fossili di tipo animale, vegetale e minerali che testimoniano la storia della zona. Ricordiamo che lo scorso anno l'Elephas Anticus Italicus ha festeggiato i 40 anni dal ritrovamento e tante sono state le attività che si sono svolte, tra le quali la realizzazione di un prototipo di mazzo di carte per narrare, seguendo il modello del paesaggio infinito, partendo proprio dai reperti custoditi nel museo, progetto dal titolo Un'altra storia, realizzato dal comune di Rotonda in collaborazione con l'associazione Arte Pollino, che ha visto il coinvolgimento degli alunni delle scuole elementari nella realizzazione di un mazzo di carte sulle quali principalmente compaiono gli animali, i cui resti sono attualmente conservati nel museo, e che ha avuto uno dei massimi esperti in giochi con le storie, lo scrittore Beniamino Sidoti e l'illustratore Ignazio Fulghesu. Il gladiatore è in Calabria, Russell Crowe è stato accolto all'aeroporto di La Mezzia Terme, come vedete da queste immagini, dal fondatore e direttore del Magna Grecia Film Festival, eccolo qua, un po' in carne devo dire, Gianvito Casadonte, come vedete il gladiatore Russell Crowe, insomma attore, cantante fra l'altro, premio Oscar, terrà martedì 20 giugno al teatro Politeama di Catanzaro il suo primo concerto del tour italiano. Sono felice e orgoglioso, ha detto Casadonte, di poter accogliere quest'icona del cinema, della musica mondiale, che ha scelto appunto Catanzaro e il Magna Grecia Film Festival per approdare in Italia. Con lui la sua band, gli Indoor Garden Party e un gruppo di artisti che ovviamente insomma avremo l'occasione di ammirare dal vivo per questa serata, si spera, indimenticabile. L'attore è stato portato poi, portato, insomma, è stato accompagnato, diciamo, a Tropea, fra l'altro ha fatto anche dei selfie con la chiesetta, insomma, no? Tropea meravigliosa, naturalmente questo affaccio, fra l'altro, insomma, è rimasto colpito dai tramonti calabresi e naturalmente noi li conosciamo bene e sappiamo che non sono l'unica cosa bella che abbiamo. Un'altra cosa bella che abbiamo è il campione europeo, non so che sport sia, ma forse è meglio se seguiamo il servizio. L'ottava edizione del premio Giovani Eccellenze Crotonesi, organizzato dal Rotary Crotone, è stato assegnato al campione europeo di Waco Pro Kickboxing, Fabrizio Ruggero. Una serata emozionante, nella quale il Rotary è riuscito a evidenziare l'attenzione che rivolge i giovani e del territorio. Il 24enne campione europeo non dimentica mai la città di Crotone, citandola sempre dopo le sue vittorie più importanti. La serata di premiazione è stata introdotta dal past president Salvatore Perri, che ha presentato le motivazioni del premio. L'assessore allo sport del comune di Crotone, Luca Bossi, ne ha evidenziato l'impegno e la funzione che lo sport ricopre nella città, mentre le conclusioni sono state di novella. Lo giudice, assistente del governatore Gianni Policastri. Il premio Giovani Eccellenze Crotonesi è stato istituito da Rotary a questo proposito. Il proposito è quello di valorizzare le eccellenze della nostra città, che non solo sono eccellenti nel mondo, ma che riescono a portare avanti anche il nome della nostra terra. E mi pare che Fabrizio Ruggero non abbia mai dimenticato le sue origini, non abbia mai dimenticato la sua città. E per questo oggi siamo molto felici di premiarlo come Giovani Eccellenze Crotonese. Per me questo è un onore, sono felicissimo di questo premio prestigioso. Sono felice di finalmente essere riuscito a portare un titolo così importante, tra l'altro, essere riconosciuto. Per me è sempre un grande orgoglio comunque portare i colori della mia città in alto. Appunto sono felice di poterla mostrare, non solo a parole, non solo tramite video, ma anche qui dal vivo. Tanto tempo, tanti sacrifici, tante ore di lavoro, allenamento, per una disciplina che forse non tutti conoscono e magari non tutti apprezzano. Cosa c'è di magico in questo sport? Secondo me è tutto, tutto, a partire dai valori che ti insegna, comunque il ring, è affascinante. E sono le previsioni del tempo, grazie a Trebi Meteo. Un saluto a ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì, il promontorio anticiclonico nordafricano continua a insistere sull'Italia, favorendo una situazione di stabilità con tanto sole da nord a sud. Giusto qualche occasionale disturbo solo sulla cerchia alpina, dove qui le perturbazioni continuano a transitare più a nord della cupola anticiclonica. Vediamo infatti nel dettaglio la mappa della nuvolosità che ci mostra molte nuvole muoversi sull'Europa centrale, qualche annuvolamento transita anche sull'Italia, ma di poco conto. Osservando anche lo zoom delle piogge, il clima resta asciutto praticamente ovunque. Giusto qualche occasionale disturbo tardo pomeridiano si potrà avere solo sulle vette alpine più settentrionali. Vediamo quindi il tempo che ci aspetta nel corso della giornata. il caldo andrà intensificandosi nel corso di martedì con punte anche di 34-35 gradi non escluse sull'entroterra toscano, ma anche sulla Val Padana, con AFA che inizia a farsi sentire nelle grandi città e lungo le coste, specie verso sera. Occasionali disturbi solo sull'arco alpino occidentale, quindi sull'osso, le crinali valdostani. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo. In questo momento le 14.27, grazie per averci seguito, vi lascio sempre in diretta Smart Sport con Luigi Saporito e noi, se volete, ci vediamo più tardi alle 5.30.